Oggi, insieme a Marco, diventate il nostro esempio di coppia, amore, fedeltà e condivisione. Il vostro amore è basato sugli stessi valori e per questo non può che continuare a crescere sempre più solido e stabile. In questa vita frenetica non mancheranno i momenti difficili, ma amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e sarà così che il vostro stesso amore vi aiuterà a rialzarvi più forti da niti di prima. Come Papa Francesco dice, il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta una vita. E allora, cara Ivi, caro Marco, prendetevi per mano e cominciate il vostro meraviglioso viaggio. Noi saremo sempre a vostro piano. Noi saremo sempre a vostro piano. Noi saremo sempre a vostra piano. Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti